Ladies and gentlemen, dammi casparà, scusa se l'ho tradotto io, signori e signori, for all of you, on the stage tonight, Roberto Farnesi! Buonasera Roberto! Donne, un applauso a Roberto Farnesi, lo facciamo? Buonasera! Buonasera! Vogliamo sapere, per te è la prima volta qual donna è la Coral Day? No, è la seconda! Fortunatamente, mi è piaciuto! Perfetto, quindi hai trovato un ambiente accogliente, sei tornato, quindi diciamo... Straordinario, si mangia benissimo, parola del mare, del mare rosso è una cosa straordinaria, la barriera è una cosa straordinaria, quindi no, veramente, cosa chiedere di più? Ok!